vitrifrigo arena ore delicate per la direzione il comune di pesero lancia l'operazione trasparenza sui lavori pubblici dall'ucraina all'etiopia la filantropia della fondazione di ferdinando fanno la regione investe sulla riqualificazione del codma tavuglia riappeso alle mura lo triccione di valentino rossi una buona serata amici amici di rossini tv ben ritrovati al nostro spazio dedicato all'informazione serale lo spazio di rossini news telegiornale di venerdì 13 maggio che apriamo occupandoci di quelle che sono ore delicate per quello che riguarda la direzione della vitrifrigo arena in seguito all'intervista che abbiamo anche riportato ieri nella quale il sindaco di pesero matteo ricci ha riferito di aver apertamente chiesto al presidente aspes luca pieri di rimuovere filippo colombo dalla direzione del palasport una rimozione che figlia del pasticcio creato attorno la concomitanza fra il playoff della vl e la convention tecnocasa che il sindaco ricci ha riferito ieri di aver risolto con un contatto diretto con la stessa tecnocasa al momento non risultano comunicazioni ufficiali in merito a eventuali ribaltoni alla direzione della vitrifrigo arena vi daremo ulteriori ragguagli nei prossimi spazi informativi di rossini tv e dopo la presa di posizione nei confronti della direzione della vitrifrigo arena oggi matteo ricci è tornato a parlare in un'altra conferenza stampa di tutt'altro genere lanciando una operazione trasparenza che riguarda i lavori pubblici della città mappe cronoprogrammi e soldi investiti concentrati in un nuovo portale e pesero che cambia punto it la nuova operazione trasparenza presentata oggi dall'amministrazione ricci per spiegare l'evolversi delle tante opere pubbliche in città fra cantieri completati cantieri in corso e cantieri finanziati uno strumento che dall'online si tradurrà presto all'offline con camminate e biciclettate organizzate dal comune attraverso percorsi esplicativi fra opere pubbliche concluse o pianificate si parla delle opere comprese dall'inizio del primo mandato di ricci ad oggi e si parla soprattutto delle risorse quel salvadanaio che custodisce oggi un mastodontico miliardo e sei recentemente gonfiato dal miliardo e due da prendersi con lo stanziamento per l'arretramento della ferrovia in parte le cose realizzate in parte le cose che stiamo realizzando e ovviamente in parte cose che lasciamo alle nuove generazioni sarà un po anche la mia eredità quando finirò il mandato a giugno del 24 però è uno strumento di partecipazione di comunicazione perché stiamo portando a pesaro tantissimi finanziamenti lo abbiamo fatto anche negli scorsi anni però è difficile spiegare ai pesaresi cosa sta davvero accadendo e quindi abbiamo deciso di creare questo sito pesaro che cambia è semplicissimo che aggiorna soltanto i progetti finanziati o con risorse nostre o con risorse regionali europee nazionali pnrr cioè le risorse che in qualche modo sono in cassaforte per pesaro e questo è molto importante perché da l'idea del cambiamento che è in atto ed ha anche l'idea di quello che ci sarà per le prossime generazioni se penso all'investimento più grande c'è un miliardo e due l'arretramento della ferrovia ovviamente non riguarderà i prossimi mesi riguarderà i prossimi anni però è una cosa che può cambiare le città per le nuove generazioni però ci saranno tantissimi anche altri progetti che complessivamente cubano centinaia di milioni che invece sono in corso o verranno realizzati nei prossimi nei prossimi miei due anni nei prossimi tre anni al massimo quindi uno strumento importante che vogliamo iniziare a divulgare muovendoci perché in questo periodo si sta molto bene all'aria aperta sapete quanto puntiamo sullo sport e il benessere e quindi lunedì sera prima camminata per illustrare le cose in centro sarà una camminata tranquillissima di tre chilometri che possono fare tutti e che faremo con lo smartphone e che in qualche modo se sarà quasi una guida una guida verso i lavori e poi invece domenica prossima faremo una pedalata e quello ci consentirà anche di spiegare bene cosa succede dietro via dell'acquedotto cosa succede all'attuale stazione il tema dell'arretramento il tema delle opere di sostautostrada all'ospedale quindi faremo un giro un po più lungo ma comunque anche questo accessibile a tutti quindi partecipazione benessere comunicazione e tanta trasparenza perché avere uno strumento del genere ovviamente è anche un po' rischioso perché tutti i cittadini potranno verificare i cantieri a che punto sono quanti sono bloccati come vanno i lavori qual è l'iter e quindi anche un grande una grande scommessa di trasparenza e partecipazione e nella mappa pesero che cambia che avete appena visto un passaggio dalla casella lavoro in corso a quella lavori completati sta per riceverlo il museo oliveriano che dopo oltre sei anni di cantieri è ormai prossimo al completamento della sua opera di ristrutturazione e rinnovo un'opera che ha accumulato ritardi a ripetizione ma che il vice sindaco daniele vimini ha annunciato pronta all'inaugurazione già prevista per il prossimo primo agosto alla presenza del ministro della cultura dario franceschini che sarà in visita a pesaro e da una ristrutturazione passiamo ad una rigenerazione ovvero lo spazio verde in e degrado di viale trieste nei pressi di bagnitino che ieri sera ha visto il taglio del nastro della nuova area fitness calisthenics realizzata grazie all'intervento congiunto di comune e comitato croce rossa di pesero l'acquisto dell'attrezzatura per l'area fitness è stato reso possibile grazie al contributo del 5 per mille devoluto a croce rossa di pesero e rientra nell'ottica dell'impegno della stessa croce rossa per la promozione di stili di vita sani l'opera è stata intitolata sebastiano di priolo medico e volontario della croce rossa italiana fondi emergenza per l'ucraina fondi per le missioni pesarese all'estero come in etiopia in kenia fondi interni per quello che riguarda le attività scolastiche sono queste alcune delle tante attività filantropiche della fondazione banda di ferdinando per il triennio 2022 e 2024 che sono state illustrate questa mattina nutrire come fornire risorse e supporto filantropico nutrire come alimentare diritti soprattutto quelli dei minori si incammina su questo doppio binario l'impegno della fondazione pesarese banda di ferdinando che ora amplifica a livello triennale la sua pianificazione di attività filantropica attività interna e destra accompagnata oggi dall'applauso del comune di pesero e delle tante associazioni enti e missioni toccate dalla loro generosità vogliamo nutrire tutte quelle realtà sia a livello locale che a livello internazionale che hanno ispirato in noi un'attenzione rispetto anche a quelli che sono gli obiettivi numero 4 e 5 dell'agenda 20 30 dell'onu l'obiettivo 4 è quello che tratta dell'istruzione di qualità e l'obiettivo 5 è quello che tratta della parità di genere queste sono state la bussola per noi per scegliere le attività che andremo a finanziare dove nutrire non significa solo dare supporto filantropico e derogativo ma significa anche alimentare quell'immaginario simbolico che ci unisce tutti per la tutela dei diritti dei minori che per noi chiaramente è importante ed è la mission della fondazione vanda di ferdinando che contenuta nell'articolo 2 dello statuto fra le novità della pianificazione l'istituzione del fondo ucraina che destinerà 10 mila euro ad un fondo gestito da carita spesero in favore della popolazione in fuga dalla guerra rifugiata sul territorio provinciale erogazioni locali indirizzate ad esempio anche al contrasto dell'abbandono scolastico erogazioni estere che prevedono 3.300 euro annui in favore di missioni in venezuela in kenia attraverso l'associazione africa chiama e al villaggio dei ragazzi sorridenti che da oltre 25 anni vede attiva la missione in etiopia di abba marcello signoretti oggi presente a pesero per portare la testimonianza di quanto realizzato in questi anni nella comunità etiope di soddo fra bisogni sociali e distruzione il 2022 è un anno in cui la pianificazione può essere riassunta con i termini connessa circolare plurale e quello che andiamo a fare quest'anno in particolare di nuovo è finanziare su un piano triennale perché vogliamo dare un maggiore respiro in un'ottica temporale a quei progetti e a quelle e a quegli enti che usufruiscono del nostro aiuto e ieri 12 maggio si è tenuta la giornata internazionale dell'infermiere celebrata anche a pesero fra importanti riflessioni su presente e futuro di questa fondamentale categoria sanitaria rossini tv a tal proposito ha realizzato uno speciale d'approfondimento che andrà in onda lunedì 16 maggio alle ore 20 e 10 intanto ecco alcune delle riflessioni emerse nella serata di ieri nelle interviste realizzate dal nostro antonio astuti L'ordine professionale degli infermieri rappresentato dalla presidente Laura Biagiotti in questo importante appuntamento la giornata mondiale degli infermieri è una data importante una data significativa perché rimarca ancora una volta di più l'importanza del ruolo di questa figura sanitaria Sì è vero oggi finalmente si può riparlare in modo ufficiale dell'infermiere ricorre ogni anno la data del 12 maggio perché ricordiamo la nostra fondatrice della nostra professione che Florence Nightingale che fondò appunto la scienza infermieristica diciamo che grazie a questa giornata ricordiamo il ruolo dell'infermiere l'infermiere che purtroppo oggi forse viene un po' a svanire è una persona è una personalità che passa in secondo piano non ha quel valore aggiunto che dovrebbe avere. La pandemia è costata cara anche a tanti infermieri più di 80 infermieri sono deceduti durante questi anni di pandemia a testimonianza quindi di come veramente si tratti della vita messa in gioco. La pandemia ha segnato tutti ha segnato anche l'infermiere l'infermiere lo fa di professione e quindi di conseguenza noi non ci sentiamo eroi come hanno spesso detto però la pandemia deve far comprendere alla nostra amministrazione regionale al nostro governo che è importante riconoscere quel valore aggiunto a questa professione perché se venisse veramente a mancare sarebbero problemi seri e quindi va dato loro un riconoscimento economico adeguato che ormai ribadiamo apertamente e il riconoscimento e il ruolo negli ambiti sanitari. Di riconoscimenti ne date voi oggi uno importante perché c'è una premiazione per una tesi di laurea dimostrazione anche della futuribilità di questa professione oggi viene premata una tesi di laurea specifica con questo concorso. Come tutti gli anni noi facciamo questa premiazione alla miglior tesi per riconoscimento a una nostra collega infermiera che è morta si chiama Monica Crinelli e abbiamo dedicato a lei questo riconoscimento e diamo l'opportunità a tutti gli infermieri che si laureano e che si iscrivano all'ordine professionale di Pesaro di poter partecipare a questo concorso. Laura sei un'infermiera, sei una giovane infermiera, sei una giovane infermiera vincente perché hai colto al volo l'opportunità che dava l'ordine professionale di Pesaro di questo concorso e l'hai vinto. L'hai vinto con una tesi di laurea molto interessante. Si chiama il disturbo depressivo maggiore, interventi infermieristici per la prevenzione e promozione alla salute mentale. È una tesi che si concentra essenzialmente sul ruolo dell'infermiere scolastico quindi portare la salute mentale e non solo, cioè poi una cosa che si potrebbe anche estendere agli altri ambiti della salute e di far promozione all'interno di una scuola. Quindi abbiamo fatto uno studio sperimentale portando appunto una prevenzione primaria in ambito di salute mentale al liceo classico Giulio Perticare di Senigallia. Un milione e trecentosettantacinque mila euro. È questa la consistente cifra di risorse che la Regione Marche ha ufficialmente stanziato per migliorare e riqualificare il Codma riconoscendo il valore strategico del mercato ortofrutticolo di Fano. Oggi è una bella giornata perché va sottolineato questa puntualizzazione che la Regione fa che rende questa struttura strategica per la Regione Marche e lo è a tutti gli effetti. È una struttura che ha una doppia vocazione, una vocazione storica quella dedicata all'ortofrutta ma si è trasformata anche in una struttura pronta all'emergenza. Lo abbiamo visto con risultati eccellenti nei tanti momenti difficili. Ha una posizione strategica per tutto il territorio, non soltanto per la città. La conseguenza di questa scelta, e qui devo ringraziare l'assessore Baldelli e la Regione per aver messo queste risorse importanti perché si fa un intervento che rende ancora più fruibile e accogliente perché anche il decoro fa parte della funzionalità, però ecco il punto centrale è la strategicità. Patrimonio immobiliare strategico della Regione Marche che si trova a Fano e che va necessariamente valorizzato. Che sia strategico lo dimostrano i dati, 2200 metri quadrati di edificio direzionale, 4500 metri quadrati di mercato ortofrutticolo e 18500 metri quadrati di aree esterne e parcheggio. Oltre questo, questa struttura è stata cruciale proprio perché è della Regione Marche anche nella gestione in emergenza della pandemia. Pensate che qui sono stati fatti oltre 33.000 vaccini e circa 150.000 tamponi. In una fase di emergenza la Regione ha potuto utilizzare un proprio patrimonio immobiliare. Molto spesso, come è avvenuto per questa struttura in passato, le strutture sono state abbandonate, in questo caso lasciate in gestione al Comune di Fano che ha fatto il possibile secondo i propri bilanci. Ora arriva la Regione che è in sintonia con il mondo dell'associazionismo, le protezioni civile, ospitata in questa struttura regionale e l'amministrazione comunale di Fano ha deciso di investire col proprio bilancio regionale oltre 1.350.000 euro. Proprio perché questa struttura, da una struttura settoriale dedicata all'ortofrutta, diventa anche una struttura multitasking, una struttura multitasking al centro di una città, nel cuore di una città facilmente raggiungibile, sia dal casello autostradale che dalla superstrada che le passa vicino, ma anche al centro della nostra provincia. La Valle del Metauro è al centro della Valle del Cesano e Valle del Foglia. Questa mattina nella sede regionale di Fratelli d'Italia è stata presentata la riorganizzazione del partito a livello regionale e provinciale. Elena Leonardi, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Sanità, sarà la nuova coordinatrice regionale del partito. Succede all'onorevole Emanuele Prisco, commissario regionale dal 2020, incaricato di guidare il partito regionale, subentrando a Carlo Ciccioli che invece aveva sostenuto il ruolo sin dalla fondazione di Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento perché domenica 15 maggio sarà stradomenica con diversi appuntamenti in città, a cominciare dallo shopping che sarà arricchito dalla presenza del mercato cittadino in piazzale Carducci al mattino e di quello dell'antiquariato che per l'occasione si terrà nell'area verde di Rocca Costanza. Aperti invece tutti i luoghi della cultura, musei civici e la sonosfera, il Museo Nazionale Rossini e Casa Rossini, l'area archeologica di Via dell'Abbondanza e quella di Colombarone e ancora la sinagoga di Via delle Scuole, la Casa Museo Gentiletti, il Museo Officine Benelli e la Biblioteca Oliveriana. E torna, anche se per ora solo in via provvisoria, lo striscione di Valentino Rossi a Tavuglia. Questa mattina infatti i tecnici del comune hanno riappeso alle mura medievale lo storico striscione Welcome to Tavuglia con la foto del 46 in sella alla Yamaha su sfondo giallo. Alla fine del 2021, in seguito ad una segnalazione alla soprintendenza delle Marche e a un confronto con gli stessi tecnici della soprintendenza, il comune dovette infatti rimuovere questo striscione. Comune però che ha chiesto e anche ottenuto una autorizzazione provvisoria per esporre lo striscione in occasione di un evento turistico e sportivo importante come la Gran Fondo degli Squali che si terrà questo weekend attraversando Tavuglia e portando tante presenze di visitatori. Lo striscione ricordiamo che resterà appeso fino almeno fino alla fine delle mese di maggio. Ed ora spostiamo l'attenzione su quanto sta accadendo in Brasile perché la nazionale italiana di basket sorde di Sara Braida, coordinata dalle pesaresi Beatrice Terenzi e Elisabetta Ferri, giocherà questa sera la finalissima per la conquista dell'oro nelle Def Limpics, le Olimpiadi dei Sordi. L'appuntamento è alle ore 22.30 italiane, ovvero alle 17.30 orario del Brasile. Avversario saranno gli Stati Uniti. La nazionale arriva a questo traguardo dopo aver battuto Grecia, Brasile, Kenya e due volte la Polonia. Ancora basket con l'appuntamento clou dei play-off di Serie A. Domenica alle 21 arriva gara 1 dei quarti di finale della VL in casa della Segafredo Bologna. Per quanto riguarda invece gara 3, appurato che si giocherà regolarmente alla Vitrifico Arena giovedì 19 maggio, è partita oggi la vendita dei biglietti con diritto di prelazione per gli abbonati che sarà valido fino alle ore 15 di domani. Ecco i prezzi, 10 euro gradinata, 15 euro curva, 30 euro tribuna, 50 euro parterre. E prima di concludere il nostro TG, vi ricordiamo uno degli appuntamenti serali di Rossini TV per quello che riguarda la prossima settimana. Parliamo della commedia dialettale dell'inossidabile attrice e autrice dialettale pesarese Franca Mercantini, Franca che ci ha ospitato nella sua casa per presentare la commedia Chi la sona, chi la canta, chi l'arconta che Rossini TV trasmetterà lunedì 16 maggio alle ore 21.20. Rossini TV trasmette Chi la sona, chi la canta, chi l'arconta, una commedia in due atti di Franca Mercantini. Spieghiamo con la protagonista, l'attrice e l'ideatrice di questo progetto che cosa potranno vedere i telespettatori attraverso questa commedia. Dunque, attraverso questa commedia potranno vedere è una commedia tratta dall'opera di Rossini della Gazzaladra che è stata scritta nel 1885, però io l'ho portata nel 1945 e parla della guerra, ma molti personaggi inventati dalla mia fantasia che compongono questo quadro molto allegro e anche attento e riflessivo di tante cose che succedono, quindi che sono successe poi durante la guerra. Hanno detto che sembra un film di Fellini, c'è da ridere e c'è da piangere, quindi, però il filo conduttore è la Gazzaladra in tutta questa storia, quindi io penso che è stata gradita molto perché ho avuto una decina di repliche, penso che i pesaresi, rivedendola in tv, rimangono più che contenti, anche i protagonisti di chi hanno interpretato questa commedia. Io penso di far felice a tutti, la commedia Parmela è bella da bestia ragazzi, guardella perché c'è da ridere e c'è da piangere. Quindi io l'ho scritta con tutto il cuore, con le lacrime, l'ho scritta ridendo, l'ho scritta pensando a Pesaro, alla mia città e al mio pubblico che amo tanto. E dunque non perdetevi lunedì sera la commedia dialettale di Franca Mercantini, così come non perdetevi tanti appuntamenti del weekend di Rossini TV. Intanto cominciamo dall'appuntamento più immediato, quello con l'informazione del Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine, telegiornale di questo territorio, curato da Edoardo Razzi, che va in onda subito dopo il Tg alle 20, con prima replica alle 23.15. E poi questa sera la prima serata è dedicata alla bellezza delle Marche, a Discovery Marche, questo format che ci porta alla scoperta di luoghi della nostra regione, in particolare la puntata di questa sera alle 21.20 sarà dedicata al Monte San Bartolo e alle sue bellezze. E poi è cominciato oggi alle 19 un nuovo format, Vox Pop, la voce dei pesaresi, un approfondimento su alcune tematiche proprio approfondite attraverso il parere dei cittadini. Vox Pop va in onda tutti i venerdì alle 19.00, questa sera ci sarà la replica alle 22.30, Vedremo di cosa si è parlato per quello che riguarda Pesaro, capitale della cultura 2024, come vivono questo importante traguardo proprio i cittadini pesaresi. E poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina alle 7.20 in diretta con Buongiorno Rossini, rassegna che sarà condotta dal nostro Antonio Astuti. Infine vi ricordiamo anche la prima serata di domani, sabato 14 maggio, alle 21.20, spazio alla scuola e alla didattica con l'innovazione per quello che riguarda gli studenti attraverso la donazione dell'aula multimediale 4.0 all'Istituto Agrario Cecchi, donazione effettuata dal Rotary Club Pesaro proprio questa settimana. E dunque tanti appuntamenti su Rossini TV, ora c'è l'appuntamento con le previsioni del tempo che conclude questo nostro spazio di informazione. Da parte mia e da tutta la redazione è davvero tutto, vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei programmi di Rossini TV. Grazie a tutti.